Beh, amici di Cicase, non so da dove partire perché per noi questo traguardo è talmente clamoroso e inimmaginabile che non posso far altro che ringraziare come fanno tutti i veri youtuber, noi non lo siamo naturalmente quindi 60.000 iscritti, 60.000 persone che ci seguono è davvero un motivo di vanto e di orgoglio anche perché come sapete non è nostro intento monetizzare o guadagnare dai video che facciamo noi vogliamo solo farvi entrare nelle nostre case qui in Alta Valseriano sul lago di Zeo anzi per esattezza oggi mi trovo nella bassa perché devo andare ad un atto notarino infatti sentite un po' di caos nel sottofondo perché non sono tra le mie abituali montagne però volevo davvero ringraziarvi perché avete fatto tanto, continuate a iscrivervi perché arriveranno sorprese sempre maggiori, sempre più improntate su di voi, cioè su chi è iscritto, quindi dirette, anteprima, sorprese in modo tale che possiate vedere prima che finiscano su tutti i portali quindi è la nostra mission più importante degli ultimi tempi, vogliamo che chi segue il nostro canale possa vedere le case novità, le novità che abbiamo in vendita davvero in Alta Valseriano sul lago di Zeo prima che vadano alla merce di tutti, io ho dei clienti che naturalmente vengono, comprano e prima che vadano in pubblicità sui portali immobiliari tradizionali, persino sul nostro sito quindi spesso e volentieri è così, quindi vi invito a iscrivervi, a mettere la campanellina per non perdervi le anteprime improvvise che facciamo perché è vero che la nostra diretta è sempre tutti i lunedì alle 13 ma a volte c'è qualche sorpresa dietro l'angolo, appena ho qualcosa di nuovo ve lo mando a volte magari anche solo per gli iscritti, quindi davvero qualsiasi algoritmo non riesce a raggiungere il vostro cellulare o il vostro computer, vi invito anche a guardare i nostri video in 4k sulla tv, le dirette sono tutte registrate in versione amatoriale da me con questo gimbal che ho in mano in questo momento, però sono in 4k quindi davvero potete vedere tutti i dettagli tanto qua nella bassa passano pullman, fa casino meglio 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 sui montagni guardate anche il cielo com'è grigio qui nella bassa, quindi davvero non volevo aspettare domani quando sarò su ad incontrarvi perché volevo ringraziarvi già oggi perché ieri sera, ieri pomeriggio abbiamo raggiunto i 60.000 iscritti ed è un risultato per noi incredibilmente straordinario grazie davvero, non vogliamo mai farvi partire le pubblicità, quindi qualsiasi video che cliccate dici case non parte la pubblicità, noi vogliamo soltanto che veniate a trovarci un caloroso saluto da me Stefano ma vi assicuro che dietro di me c'è un'equip straordinaria ve li cito spesso ma ve li dico, Edoardo, Fabio, Emanuele, Isabella in ufficio che risponde sempre lo 0346 23933, il mio cellulare lo conoscete è il 320 033 4332, grazie ancora a tutti 60.000 volte grazie ma non basta, continuate a crescere e con noi e con voi speriamo di riuscirci anche noi. Un caloroso saluto nuovamente e buon fine settimana, vi aspettiamo, si avvicina il Natale, si avvicinano sorprese, guardate mi metto davanti una stella, solo di una stella, un caloroso saluto, buona giornata a tutti.